Ciao a tutti, io sono il Dilan Drogofilo, oggi recensione dell'album mensile numero 317 L'Impostore, copertina di Angelo Stanno in questa occasione elaborata, particolarmente bella anche dal punto di vista della colorazione che vanta innumerevoli summature, un disegno che ha un tratto molto fine che va ad arricchire in maniera elevata di dettaglio ogni singola rappresentazione, tanti elementi che trovano in questo spazio una loro giusta espressione, tutto sommato copertina che convince molto, così come la storia che tra poco andremo a scoprire. Unica cosa che non ho capito, questo personaggio non appare nemmeno in uno straccio di vignetta, quindi non so perché Angelo Stanno abbia messo questo personaggio in copertina, secondo me doveva metterne un altro, almeno uno di quelli che appare in questa avventura. La prima volta forse che troviamo nelle copertine di Angelo Stanno un personaggio che non c'entra nulla con la storia. Testa e sceneggiatura di Bilotta e disegni di Mari, voto finale che vado ad assegnare, ve lo dico subito, un 9+. Perché? Perché questa storia inizia benissimo e finisce ancora meglio. Abbiamo un ritmo incalzante, un sottile filo di curiosità continua che avvolge il lettore, lo spinge a voltare pagina dopo pagina per scoprire la trama come prosegue e quindi una storia che insomma tiene sempre sulle spine si può dire e il lettore appunto vuole sapere cosa succede e per questo la noia non giocherà mai una carta fondamentale in questa avventura, una storia che non mi ha per nulla annoiato. Bilotta che è stato in grado poi di integrare tantissimi aspetti salienti del mondo dell'indegatore dell'incubo in questa avventura e affiancati da una trama particolarmente originale che sul finale davvero regala il meglio di sé. Una trama che parte come un Big Ben prima e così, dopo mano a mano va ad espandersi e a formare un universo davvero perfetto. Va a formare tantissimi elementi, tantissime cose che dopo sommandole l'uno con le altre insomma si sosterranno l'una alle altre e tutto ciò contribuirà a un'ottima resa finale di questa avventura. Ma di che cosa parla nello specifico? C'è questa nuova cliente che va a casa di Dylan e dice che un doppio ha ucciso suo marito, quindi un sosio di suo marito, una copia di suo marito l'ha ammazzato. Scotland Yard ovviamente non ci crede, Block non ci crede perché nel momento dell'omicidio c'era solo il marito e la moglie nella casa quindi dubitano fortemente che ci sia stato un intruso che abbia ammazzato il marito. Non ci sono le impronte digitali dell'assassino, insomma tante tante cose non quadrano dunque Scotland Yard dà subito la colpa alla moglie di aver ammazzato il marito per un classico delitto coniugale. Dylan però vorrà andare oltre e scoprirà che c'è sotto davvero un mistero ben più ampio che il solito delitto coniugale. Cosa succede? Praticamente c'è in giro un attore, questa ragazza lavora negli studi televisivi, quindi Dylan inizia da lì a compiere le indagini. In questi studi televisivi ci sarà un imitatore che appunto per professione prende sempre le spoglie di altre persone e cerca di imitarle nel migliore dei modi e quindi inizialmente rimane lui come principale sospettato da parte di Dylan Dogg. In questa storia si susseguono altri delitti sempre con lo stesso modus operandi, sempre da parte di questo sosia malvagio misterioso e alla fine tutti gli indizi porteranno proprio a questo attore che per mestiere prende le spoglie degli altri, insomma Dylan pensa che è lui il colpevole di tutto invece dopo ci sarà un colpo di scena finale che stravolgerà completamente la strada intrapresa da Dylan quindi tutto ciò che era sicuro fino a un attimo prima l'attimo dopo diventa completamente incerto ed è questo proprio il bello del finale che non voglio svelarvi perché non merita di essere spoilerato vi dovete godervelo perché è davvero un finale con i fiocchi, ve lo lascio godere a voi. Purtroppo in questa storia non abbiamo un'integrazione particolarmente ferrata di Graucio che appare solamente in qualche vignetta per... ho dato inizialmente il voto doveva essere 9 e mezzo però siccome Graucio è poco partecipe in questa avventura il voto si è abbassato leggermente è diventato un 9 e più. Nulla di trascendentale però Graucio poteva essere proprio la ciliegina sulla torta che poteva andare a diciamo contornare alla perfezione questa avventura. C'è tutto il meglio del mondo di Dylan Dogg, anche un'infarinatura generale per chi non conosce il personaggio del narratore del lingue ma manca solo Graucio che è un pochino sotto... non sottovalutato ma sottoesposto, come si può dire. Graucio non appare più di quel tanto bastava proprio un pelino in più di partecipazione per rendere la storia ancora più bella di quello che già è. Disegni di Nicola Mari che in questa occasione mi sono piaciuti. Ecco, il voto finale ha ricevuto un voto così alto anche grazie ai disegni di Nicola Mari che in questa occasione in assoluto non sono belli perché diciamocelo in alcune occasioni questi volti sembrano quasi disumani come quelli di questa ragazza che adesso vado subito a prendervi, vedete sembra quasi un alieno insomma però hanno un loro perché soprattutto in questa avventura sono più marcati hanno un tratto più solido, più deciso e soprattutto riescono a comunicare emozioni ovvero le espressioni facciali questa volta hanno un non so che di sottile e anche quando Dylan ha delle espressioni come questa, vedete nessuna espressione rimane neutra e ogni espressione assegnata questa volta da parte di Nicola Mari sui volti dei personaggi ha un'emozione da comunicare e questo è un plus non da poco poi ci sono comunque mimiche facciali più decise che riescono a riprodurre ancora meglio le emozioni che il personaggio vuole trasmettere in quel momento ma anche dove all'apparenza le espressioni sembrerebbero essere neutre in realtà hanno una loro sottile diciamo emozione che riesce a rimanere trasparente ad arrivare al lettore forte e prorompente quindi grazie anche ai disegni di Nicola Mari in quest'occasione in quest'occasione questo albo prende un voto finale alto che altro dire dei disegni di Mari si può dire che i personaggi forse sono anche più omogeni anche come struttura proprio del corpo non hanno una linea troppo esageratamente filante come Mari ci ha abituato avete presente le braccia a lunghe chilometri le mani che a volte sembrano quasi un rastrello di quello che si usa per tirare sulle foglie questa volta i personaggi sono un pochino più calibrati sono un attimino più umani e appunto sono più omogeni nel senso che vedete Dylan ha un corpo abbastanza filante ma non ha delle braccia sproporzionate ecco i personaggi sono proporzionati così come tutti gli ambienti ricreati questa volta da quest'artista che è riuscito in quest'occasione a piacermi e anche tanto bene, direi di concludere qui la recensione se questo video in qualche modo ti è piaciuto se ti è stato utile condividilo dove vuoi con chi vuoi iscriviti al canale youtube del Dylan Drogfilo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Drogf fammi sapere la tua qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video completamente dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo ve lo consiglio tanto 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 questo Alba perché davvero merita grazie a tutti